Iniziative, concerti e manifestazioni. L'estate 2020 perde a causa del Covid-19 anche gli eventi della Proloco di Fano, dalle feste di quartiere alla Notte dei Desideri fino a in Girperfan, l'evento di punta dell'associazione. Nonostante l'emergenza sanitaria, il direttivo guidato da Gino Bartolucci non si è mai fermato in questi mesi e anzi ha messo in campo decine di volontari per aiutare il comune e la popolazione. Sì, perché la solidarietà è sempre stata al punto fermo della Proloco che anche quest'anno dà il via alla campagna tesseramenti e volge uno sguardo verso il futuro. Mai come adesso, infatti, c'è bisogno di coesione e supporto a chi per anni ha regalato divertimento, allegria, emozioni. E continuerà a farlo senza mai dimenticarsi di fare del bene agli altri con gesti di beneficenza sia a singole persone che a intere comunità. Siamo ovviamente, tra virgolette, in ritardo nel senso che normalmente a marzo è la campagna tesseramento della Proloco, ma quest'anno, lo sappiamo tutti, è un anno particolare. Però come Proloco ci siamo, però come Proloco il tesseramento lo vogliamo fare perché fare parte della Proloco è una cosa meravigliosa. Quindi abbiamo deciso, questa cosa particolare, di fare sì il solito tesseramento, ma quest'anno di essere vicino ai fanesi e anche a persone al di fuori di Fano che vogliono tesserarsi nella Proloco di Fano. Insieme al tesseramento, che è il costo di 5 euro, il solito costo di tutti gli altri anni, diamo in omaggio 10 mascherine chirurgiche, che purtroppo sono entrate a far parte del nostro abbigliamento quotidiano. Il tesseramento è la tessera Proloco 2020, appunto il costo è 5 euro. E partiremo da questo fine settimana, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 e domenica dalle 15 alle 19, qui presso la sede della Proloco ci sarà un socio, ci sarà uno di noi della Proloco che rispettando tutte le normative di sicurezza di distanza e quant'altro faremo appunto i tesseramenti. Siamo partiti alla grande perché come sempre, come tutti gli anni, abbiamo organizzato la nostra festa consolidata di carnevale che è il veglione della gluppa alla combattente e dopo questo bellissimo evento di grande festa e di grande libertà purtroppo è arrivata l'emergenza coronavirus, quindi in un certo senso abbiamo dovuto bloccare alcuni eventi che erano immediati e che comunque erano parte integrante anche dell'estate 2020, però nonostante questo noi siamo sempre stati presenti perché abbiamo collaborato insieme al Comune, perché comunque siamo il braccio operativo del Comune, abbiamo distribuito le mascherine gratuite insieme a tutte le nostre associazioni e le abbiamo distribuite alla città ai fanesi. Nonostante questo noi cerchiamo di avere delle idee e dei progetti anche per l'immediata estate e l'immediato futuro, ovviamente nel rispetto di tutte le normative che sono richieste e che dobbiamo rispettare, però abbiamo già delle belle idee in programma sfruttando gli spazi che abbiamo, quindi gli spazi verdi, gli spazi all'aperto, gli spazi anche dell'arena, della BCC Arena che abbiamo qua e che comunque permettono magari anche il distanziamento sociale e quindi organizzare un qualcosa anche di festoso, ovviamente rispettando le norme.